Io sono per eliminare il non recluso la facoltà di medicina, per eliminare, se ne vada tra tre anni, ma siccome siamo un paese di maledetti ipocriti, ma noi se apriamo si sovraccaricano con le università, meglio così. Oggi l'iscrizione della facoltà di medicina è diventato un marchettificio, è una porcherina, non solo per i testi, i quiz e le palle. Il punteggio del quiz cambia, una volta danno di più per il quiz che riguarda la chimica, un altro danno di più per il quiz che riguarda la matematica, cosa è l'altro mondo. Abbiamo ragazze e ragazzi che per affrontare i quiz, i test di medicina, vanno a fare i corsi di formazione a 5.000 euro l'uno. I quiz e la povera gente non possono più andare a medicina, è chiaro? Allora io preferisco di far fare una facoltà di medicina, però la selezione si fa sul campo. Se la ragazza voglia di studiare, ha passione, stile, allora la facoltà di fare i corsi di medicina, è chiaro? Tanto che il piano se leggo ogni volta una palma, motivazioni di emensità, ma com'è possibile? C'è un povero Cristo di ragazzo che viene da una famiglia di povera gente, ma dopo di fare i 5.000 euro per fare il corso per partecipare ai quiz e poi ne facciamo due l'anno e poi ti dicono il risultato dopo sei mesi, fai il quiz a febbraio, il risultato dell'anno a settembre, ma questo è un manicomio, non è un paese civile.